McGrannit, Albus. Ben fatto. Tutti voi ben fatto. Congratulazioni. Congratulazioni. Ma sì, la professoressa X è riuscita a sventare un attentato. E tu sei vivo e stai molto bene. Il fatto che non tutto sia andato da piano era precisamente il piano. Fondamenti di controvisione. Albus, perdonami, ma non siamo appunto da capo? Anzi, direi che le cose sono peggiorate parecchio.